Orgogliosi di essere italiani, anche se la nazionale di calcio è uscita malamente dal mondiale, a Miragica e il Parco dei Divertimenti di Molfetta ci credono comunque. Doveva essere una festa, programmata nel caso in cui la squadra di Prandelli fosse andata avanti. Fa lo stesso, dicono gli organizzatori, il tricolore emoziona sempre e comunque, soprattutto quando a sventolarlo ci sono ospiti speciali. A Molfetta c'era la sorella di Salvatore Girone, uno dei due fucilieri pugliesi del battaglione San Marco che da oltre due anni è trattenuto in India con il collega Massimiliano Latorre, accusati di aver ucciso dei pescatori scambiati per pirati. Il desiderio è di vederlo, presto tornare a casa. Hanno bisogno di sentire la nostra voce, il nostro calore, tutta la nostra vicinanza. È importante anche perché loro possono sentire sempre cosa significa stare qui e loro lì. E non essere, insomma, dimenticati. Da tempo che non senti tuo fratello? No, di sentirci noi ci sentiamo spesso. Per fortuna c'è Skype, comunque ci sono questi programmi dove ci permettono di parlare, di avere comunicazioni. Però per noi è difficile non poterlo vedere perché alla base abbiamo dei principi familiari dove noi cresciamo insieme, viviamo insieme. E questo periodo per noi è triste anche perché non poter semplicemente condividere una serata, una giornata è difficile. È difficile.